Sono Giuseppe Tatone e lavoro allo Spicchisi di Bari. I nostri ingredienti saranno cacciasa brasiliana, scerbetta agli agrumi del gargano, una preparazione in cui si sfrutta il processo di osmosi dello zucchero che va ad estrarre gli oli essenziali all'interno delle scorze degli agrumi e poi il tutto vasciotto con il succo degli agrumi utilizzati. Soluzione salina, mandorle tostate e infine il magico liquore strega. Grazie a tutti. Grazie a tutti.